musica 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 eccoci con Giardino Gabriele allora il bomber della squadra Caciocavallo continua questa corsa solitaria in metà classifica anche se prime quattro squadre in tre punti infatti sì però questa giornata mi sembra che ci sono scontri diretti seconda contro quinta quindi per noi abbiamo vinto un'altra vittoria dedicata forse avete faticato più del previsto è stata una partita fisica anche perchè spaisati un po' dalla nebbia anche perchè anche all'andata c'è un filo da torce infatti abbiamo perso 3 a 2 però questa è una vittoria che continuiamo sempre a dedicare al nostro amico Sapa sempre con il cuore quindi è un motivo in più che ci una spinta in più una spinta in più e comunque vi candidate sempre a essere i favoriti di questo girone fate tutti gli scongiuri che volete il premio per l'MVP il primo premio per l'MVP te lo scontriamo ma noi non tocchiamo noi tocchiamo il caccia all'altra ma l' Sharkboyista se ne va l' Sharkboyista se ne va IP SEЕН E deeper super dei rarmi e il today Grazie a tutti.